Si è rinnovata l'offerta del cero in occasione della festa di San Donato, patrono di Arezzo. Il cero d'Arezzo al centro, davanti all'altare, e quelli dei comuni della provincia Elati. I tributi a San Donato, patrono della città, davanti alla cattedra dell'arcivescovo Riccardo Fontana. Tanti gli aretini che sono saliti fino in Duomo per assistere alla cerimonia religiosa. Non c'era un solo posto libero tra le panche e nemmeno tra le navate della cattedrale. Al termine della funzione è stato il momento delle esibizioni, scandite al ritmo dei musici che hanno preparato la folla allo spettacolo dei fuochi d'artificio in fortezza. Ed ecco oltre 20 minuti di spettacolo prima dell'ultimo lunghissimo applauso che ha colorato la vigilia della festa. D'altronde la giornata club però è stata oggi quando la città ha rallentato i suoi riti e gli aretini rimasti a casa e impossibilitati a muoversi nelle ore precedenti si sono recati in Duomo per rendere omaggio al patrono di Arezzo.